su instagram dakota kai ha confermato che il suo ritorno in scena è ormai imminente tra l'altro in un video che ha pubblicato sul medesimo social la si vede al trucco e parrucco e poi in abito da combattimento e infine eccola lì a ballare con una maxi scritta a led verdi xl alle sue spalle segno che sta già lavorando dietro le quinte a qualcosa di nuovo in questi giorni i social di the rock sono invasi da messaggi di sostegno a cody roads su instagram ad esempio otto ore fa rock ha pubblicato un video della sua recente apparizione a smackdown che pubblicizza la conferenza stampa wwe di domani e ho controllato almeno l'ottanta per cento di chi ha commentato l'ha fatto in sostegno dell'american nightmare o per invitare the rock stesso a fare un passo indietro in una recente intervista brutus creed ha rivelato di aver ricevuto la chiamata che l'ha informato della promozione a tempo pieno a ro nel giorno del suo matrimonio per lui una doppia gioia immensa dunque e un motivo in più per festeggiare con amici e familiari già riuniti per le nozze grazie grazie